Il processo alle cosiddette talpe della DDA che vede tra sue imputate il presidente della regione, Salvatore Cuffaro, accusato di favoreggiamento a Cosa Nostra, prosegue con la discussione delle parti civili. Lo ha stabilito stamane il presidente della terza sezione del Tribunale, Vittorio Alcamo, rilevando di non avere ricevuto alcuna comunicazione ufficiale della decisione presa ieri dall'ufficio di presidenza della Corte di Cassazione che ha ritenuto formalmente ammissibile l'istanza di rimessione del processo presentata dai difensori di Cuffaro. Pertanto il presidente Alcamo ha dato la parola all'avvocato Fausto Amato, legale di parte civile per il comune di Bagheria, che ha chiesto 6 milioni di euro a titolo di risarcimento danni. Alla sbarra infatti anche l'imprenditore della sanità Michela Iello, ex titolare della società diagnostica TM e della clinica Villa Santa Teresa, per il quale i PM hanno chiesto la condanna a 18 anni di reclusione. Amato ha sottolineato che il comune di Bagheria avrebbe intenzione di utilizzare la cifra per finanziare i servizi destinati ai soggetti deboli. Saiello è realmente l'interfaccia di Provenzano, assorbato illegale. Una condanna al risarcimento danni di questo tipo non avrebbe un carattere afflittivo, ma sarebbe un giusto modo di riparare al danno all'economia della città.